Tutto il corpo della dogaressa cominciò a corrompersi, così le sue membra si disfacevano in ogni parte, riempiendo la sua stanza di un fettore intollerabile. Nessuno riusciva a sopportarlo, né chi era addetto al suo abbigliamento, né il suo valletto personale. Soltanto un'ancella, aiutandosi con un profumo speciale, poteva rimanere al suo servizio assiduamente, ma anche essa entrava nella camera della sua signora solo per pochi istanti e poi fuggiva via di corsa. Disfatto ormai della lunga malattia e dopo aver sofferto duramente, finì i suoi giorni con grande sollievo degli stessi amici suoi. E chi è che scrive con tutta questa cattiveria e quest'odio? Un santo! San Pier Damiani, che ce l'aveva su con la moglie del doge Domenico Salvo, la principessa bizantina Teodora. Secondo il santo, infatti, questa terribile morte era la punizione che Dio mandava alla dogaressa per i suoi terribili peccati. Si lavava tutti i giorni!